ciao a tutti buongiorno a tutti eccomi qua puntuale come un orologio svizzero puntuale come un orologio svizzero per puntuale puntuale come un orologio svizzero per parlare di una cosa per parlare di una cosa molto importante vediamo chi si collega e teniamo presente questo allora o vedo un po di persone collegate viva svizzera e di vincislao buongiorno buongiorno forse è arrivata la notifica è arrivata la notifica o bene vedo che le persone si collegano quindi vuol dire che la notifica è arrivata perché quando le persone si collegano la notifica è arrivata volevo capire se su questo canale qua più piccolino arrivano più notifico rossella rossella diamo subito la chiave rossella rossella ma ok un saluto lo spagnolo james che ti sta seguendo lo spagnolo james che mi sta seguendo salutiamo sull'altro canale ci sono anche dei video in spagnolo cioè con i sottotitoli in spagnolo quindi di pure lo spagnolo james che se va sull'altra sull'altro mio canale quello principale nella playlist international video international come l'ho chiamata quelli con i titoli in inglese ci sono anche sottotitoli in spagnolo allora vediamo un attimino il tema il tema è la paura dell'amore la paura delle emozioni e i meccanismi di difesa ora noi abbiamo due due parti abbiamo la parte logico e razionale che è un po una barchetta che vuole navigare in un mare calmo e abbiamo si rossella grazie rossella iscrivetevi a questo nuovo canale mi raccomando iscrivetevi a questo abbiamo anche tania grandi che alta un metro e zero zero l'innominato grazie stefano l'innominato alla ricerca potremmo fare un film l'innominato alla ricerca della tati perduta un nuovo film d'avventura l'innominato alla ricerca della tati perduta e la canetti sitz platz allora quindi cosa sono questi meccanismi di difesa e perché le paure hanno le persone hanno paura delle emozioni hanno paura di amare hanno paura di coinvolgersi beh perché ovviamente ci sono due come dire esigenze diverse due istanze diverse la nostra parte logica si difende dalle emozioni si difende giustamente dalle emozioni dal punto di vista della sfera logico e razionale perché le emozioni destrutturano la logica la logica pensate come un po una parte che vuole avere tutto sotto controllo quando siete innamorati avete tutto sotto controllo no non avete tutto sotto controllo quando siete innamorati avete poco sotto controllo salutiamo anche anna cicognani avete poco sotto controllo e quindi la parte logica ovviamente tende a difendersi e sanno che prima o poi arriva la fregatura ma non è che lo sa tutta la persona lo sa la parte logica o comunque non è che sa che arriva la fregatura sa che può arrivare una fregatura quando lei non controlla perché la nostra sfera logica che vuol navigare sul mare tranquillo vuole controllare vuole sapere esattamente tutto quello che succede infatti la parte la sfera logico e razionale amerebbe delle relazioni prevedibili delle relazioni abitudinarie perché le relazioni man mano o anche bacheca la pantera hai già perso il filo perché va bene c'è un cervellino da rospo c'è un cervellino da rospo bacheca per quello che perdi il filo cioè se al cervello da rospo allora perché la parte logico e razionale vuole questo vuole perché le abitudini le persone le relazioni dopo un po di tempo sfociano in relazioni abitudinarie perché la parte logica prende il sopravvento prende il sopravvento perché la parte emotiva perde forza quando una relazione nasce se un nasce una relazione diciamo emotivamente appagante all'inizio la parte emotiva è preponderante quindi le persone quindi le persone vivono le relazioni diciamo in modo emotivamente trasgressivo non sa mai quello che succede hai sempre come dire ci sono sempre imprevisti sempre situazioni particolari o la gallina è tornata la gallina è un'altra gallina non sappiamo qual di quale gallina si tratta comunque e e allora le perso la gallina ok e dove l'ha lasciato il corvo un po è tornata la gallina comunque è tornata la gallina annunzio vobis gaudium magnum è tornata la gallina abbiamo isabelle gra ecco vi do due info iscrivetevi al canale della chiara caneschi e al canale della isabel legrand ai due canali e anche al mio questo canale qua se no vi farò del male scherzo però iscrivetevi anche al mio canale o abbiamo la malgasciona doc alessandra casara super malgasciona doc quindi andiamo al a vedere ma che annunzio che annunzio mai vatti a studiare il latino baccheca vatti a studiare il batino che annunzio vatti a studiare il latino che annunzio ma vatti a studiare il latino baccheca annunzio vabbis annunzio vabbis che annunzio che annunzio è scritto annunzio vabbis che annunzio annunzio l'amico di giovanna baccheca vatti a studiare il latino baccheca vatti a studiare il latino ma che annunzio annunzio baccheca baccheca vatti a studiare il latino vai a studiare il latino e poi parla se no stai zitta stai zitta altrimenti vatti a studiare latino vai vatti a studiare un po di latino e poi parla e poi parla se no taci per sempre che annunzio che annunzio chi è l'amico di francesco annunzio che annunzio girolamo zitta bacheca zitta bacheca bacheca zitta vatti a vedere vattene a vedere su google vattene a vedere su google vai dove vuoi vattene a vedere su google ma che il papa dice così ma che stai dicendo annunzio vobis gaudium magnum abemus papam annunzio vobis che annunzio sei tu che non sai il latino vattene a studiare e non fammi arrabbiare vattene a studiare latino allora comunque ritorniamo al discorso precedente quindi ritorniamo al discorso precedente ritorniamo al discorso precedente quindi parlando a me ha fatto inalberare con nunzio che annunzio che annunzio è il macellaio è il macellaio del quartiere polcevera nunzio 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 robis che sta un nunzio mannaggia e lo zio nunzio il francesco è l'amico dice vattene a studiare latino vai 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 bacheca comunque il guardiano civitero nunzio il guardiano civitero nunzio il che babbaro nunzio il che babbaro comunque capre tornando al discorso di prima allora abbiamo una parte logica unico comunque abbiamo abbiamo il riprendiamo il discorso riprendiamo il discorso ritorna bacheca ritorna dai che qua tanto l'ignoranza l'ignoranza bacheca è google l'ignoranza regna sovrana quindi c'è spazio anche per te allora ritorniamo che l'ignoranza regna sovrana vabbè nunzio nunzio robis vabbè non fatemi ridere perché non ce la fa il mio cuore leggo non ce la può fare ma dove c'è nunzio c'è nunzio il person nel treno ma dov'è nunzio ma dov'è nunzio c'è annunzio robis non nunzio annunzio robis il maestro di tank ma guarda su google ma guarda su google ma vai a vedere su google non fammi arrabbiare bacheca eh che ti strappo ste orecchiette comunque andiamo avanti e adesso riprendo il discorso seriamente quindi allora è la nostra sfera logico razionale che fa scemare diciamo che fa scendere una relazione nell'abitudine è soltanto la nostra relazione è soltanto la nostra parte logica infatti le relazioni nel tempo tendono a diventare abitudinarie perché l'abitudine piace alla parte emotiva alla parte emotiva piace molto l'abitudine eh la parte emotiva odia l'imprevedibilità la parte eh cioè scusate la parte logica odia l'imprevedibilità la nostra sfera logico razionale ha bisogno di motivazioni sostenibili mentre la parte logica mentre la parte sì la parte logica la parte logica la parte logica odia l'emotività la parte logica ha bisogno di motivazioni sostenibili la parte logica ha bisogno di abitudine la parte logica ha bisogno di istituzione mentre la parte emotiva è l'inverso la parte emotiva è un po' il diavolo tentatore la parte emotiva ha bisogno di eh diciamo emozione ha bisogno di imprevedibilità la parte emotiva ha bisogno di trasgressione chi trasgredisce è la parte emotiva perché poi tra l'altro uno dice ma eh perché bisogna trasgredire perché bisogna trasgredire perché la parte emotiva ha bisogno di di trasgressione ad esempio trasgredire l'amante eh diciamo così se lo va a cercare la parte emotiva non se lo va a cercare la parte logica perché per la parte logica tutto sommato avere un amante è un patimento da un certo punto di vista e uno dice ma allora perché le persone iperlogiche tendono ad avere l'amante è perché le emozioni compresse spingono il problema è che la nostra parte logica non è che può gestire tutto è a questo limite e quindi uno dice è più facile che abbia un amante una persona iperlogica che una persona emotiva è vero perché la persona emotiva quando vive un'emozione da un'altra parte si sgancia e va a cercarsi un'altra persona mentre la parte logica comprime 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 cioè le persone iperlogiche comprime 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 e a fuori di comprimere non ce la fa più a comprimere perché la parte emotiva comunque è più viene compressa più si rafforza pensato un po' a una pentola pressione pensato un po' a una pentola pressione la parte logica eh comprime comprime e poi a un certo punto eh la parte emotiva riesce a venire fuori e ti fa e ti fa innamorare di qualche persona ti fa innamorare ti fa vivere una trasgressione quindi la trasgressione per una persona iperlogica che rappresenta un po' la valvola di sfogo di una pentola pressione avete presente le pentola pressione che hanno quella valvolina di sfogo quella valvolina di sfogo è praticamente eh quello che permette alla persona iperlogica di viversi comunque le emozioni ma la persona iperlogica si vivrà le emozioni sempre diciamo anche talvolta con sensi di colpa ad esempio eh questa è una cosa interessante questa è una cosa interessante eh certo che sono tutti ignoranti io scherzo con la bacheca sono tutti quali ignoranza regna sovrana non ce ne sono tutti ignoriamo qualcosa tutti ignoriamo qualcosa ad esempio eh ad esempio dobbiamo tenere c'era un una storia così tanto per raccontare una donna che aveva una relazione fedifraga e concubina e però se ne aveva consensi di colpa per cui si era messa in testa un'idea che eh diciamo iniziava a temere che durante le sue trasgressioni potesse capitare qualcosa di brutto ai suoi figli un incidente una cosa del genere e e lei diciamo viveva il senso di colpa perché lei quando questa donna qua quando aveva questa relazione eh trasgressiva diciamo quando tradiva il marito fondamentalmente spegneva il telefono no spegneva il telefono per non essere impacciabile allora eh aveva e raccontava non so che che palla raccontava al al telefono e allora temeva che il praticamente il marito eh la la scoprisse quindi viveva questo senso di colpa e quindi pretendeva che i figli stessero a casa per paura che gli potesse succedere qualcosa questo è un pensiero assurdo no? Eppure eh perché vengono fuori questi pensieri assurdi? Vengono fuori buongiorno Lady Elvira e salutiamo anche Lucy Lucy e Tizzi Jaguar perché abbiamo paura che questi pensieri assurdi? eh cioè perché vengono fuori questi pensieri assurdi? Vengono fuori perché eh sono mediati dai sensi di colpa sono mediati da il senso di colpa che cos'è? Il senso di colpa è un altro meccanismo di difesa che utilizza spesso la parte logico-razionale quindi paradossalmente più una persona ha paura di di viversi una storia d'amore ad esempio di viversi una relazione più eh come dire entrerà in un meccanismo di conflitto interiore il conflitto interiore tra chi? È sempre tra la sfera logica e la sfera emotiva che entreranno in conflitto perché la parte emotiva vorrebbe viversi una storia d'amore piacevole vorrebbe viversi una una relazione piacevole ma se la parte logica comprime praticamente entri in conflitto allora eh che qual è un eh Alessandra Casara la soluzione? La malgasciona doc Alessandra Casara abbiamo qua la malgasciona doc Alessandra Casara qual è la soluzione? Beh la soluzione è eh trovare un compromesso tra le due parti e trovare un compromesso tra le due parti il negoziato la soluzione è il negoziato negoziare tra le due parti cioè far sì che queste due parti vadano d'accordo tra loro perché se tu se la parte logica di trita ogni oggetto di desiderio la parte emotiva lo trita lo mette nella nella frigitrice lo brucia lo distrugge e sta cavolo di parte emotiva è come dire sta cavolo di parte emotiva che farà ti penalizzerà ti massacrerà attraverso che ne so attacchi di panico attraverso eh somatizzazioni attraverso te ne farà venire tutti colori insonnia eh eh herpes non lo so qualche cosa ti farà venire inizierà a mazzuolarti a mazzuolarti è ovvio che le emozioni che tu devi dare e e paradossalmente poi ti farà innamorare della persona peggiore del mondo quella che proprio avresti logicamente rifiutato ti fa innamorare di quella perché a fuori di comprimere poi ovviamente la parte logica sbottano e come l'impiegato che viene come dire tartassato tutti i giorni viene mobizzato tutti i giorni e lui per paura di perdere il posto di lavoro eh accetta questo mobbing diciamo così accetta il mobbing e non eh e non ne viene fuori accetta il mobbing e non ne viene fuori vatti a studiare il latino bacheca vatti a studiare il latino bacheca vai a studiarti il latino adesso ti faremo faremo corsi di latino per bacheca e allora beh il negoziato va fatto nel modo giusto però il negoziato va fatto nel modo corretto perché il negoziato non non deve essere un'imposizione di una parte sull'altra non deve essere un'imposizione di una parte sull'altra il negoziato deve essere un qualcosa di eh diciamo di fatto in modo armonioso altrimenti diventa anche qua un'imposizione se una parte diventa cioè se nel negoziato una parte prevarica la cosa non funziona il negoziato ci deve essere una parte una parte terza nel negoziato tra la parte emotiva e la parte logica questa parte terza è la nostra coscienza il nostro sé superiore è negoziato è come una riunione di condominio malgasciona se in questa riunione di condominio ci deve essere l'amministratore e l'amministratore deve metterle d'accordo le parti perché se l'amministratore oppure l'arbitro di una partita di calcio non può essere un arbitro cornuto che dà ragione a una squadra che dà sempre il rigore a una squadra contro l'altra quello non è più un negoziato diventa un'imposizione e allora le due parti sono scontente come dire no il negoziato vuol dire eh la pianella ad esempio c'ha eh la ristrutturazione in sei fasi nella ristrutturazione in sei fasi vengono eh come dire si fa alla fine un controllo ecologico qual è il controllo ecologico che tutte le parti siano d'accordo tutte le nostre parti interne questo metodo appunto si chiama ristrutturazione sei fasi della pianelle utilizza anche la parte creativa perché dentro di noi c'è la una parte emotiva anche una sfera creativa e la sfera creativa può trovare delle soluzioni alternative è una sorta di brainstorming interiore fondamentalmente è una sorta di brainstorming interiore e questo brainstorming interiore deve servire a creare un'armonia interiore perché il negoziato fatto male è quello che non ha armonia interiore e quindi l'arbitro è cornuto fondamentalmente cornuto nel senso che è da diciamo vantaggio a una squadra rispetto all'altra e allora quando succede quello sì dobbiamo dare delle emozioni però devono essere delle emozioni che sono anche emozioni come dire calibrate perché come dire se tu per fare un esempio qual è il problema che allora qui in questo conflitto tra queste due sfere tra la sfera logica e la sfera emozionale diciamo così no la sfera logica cerca di comprimere le emozioni la sfera emotiva cerca di vivere delle emozioni se non c'è accordo se non c'è equilibrio la parte emotiva sfocerà diciamo produrrà si autoproduverà emozioni attraverso ad esempio che ne so dall'attacco di panico al farti innamorare di una persona sbagliata a farti vivere delle situazioni strane no allora bisogna gradualmente diciamo così iniziare a dare questi bocconi emotivi e però devono essere in accordo tra sfera logica e sfera emozionale questo questo nutrimento emozionale quindi negoziato interiore o la ristrutturazione sei fasi per usare sono tanti metodi diciamo per usare il termine della pianela e quella di creare un'armonia in modo tale che le emozioni vanno date ma devono essere emozioni calibrate nel senso giusto cioè non devono essere emozioni e come dire eccessivamente cioè come dire non devi tirare fuori troppa merda che c'è dentro perché se viene fuori troppa merda tutto assieme è come dire va inquinare inquinare tutto il sistema mentale è un lavoro graduale che va fatto per creare un'alleanza un'armonia interiore quando si crea un'alleanza quando si crea un'armonia interiore la persona entra in uno stato di equilibrio e si percepisce questo stato di equilibrio lo stato di equilibrio si percepisce e la persona inizia se entrato nella merda alessandro papa stai nella merda alessandro papa è entrato con la merda e resterà nella merda però ti ti risvelo questa essere nella merda non è la cosa peggiore e chi ti chi ti tira fuori dalla merda non è che spesso ti aiuta la sapete no adesso la canetti dirà la sua minchiata canetti si perché stasera l'ho già raccontato comunque c'era un passerotto che cade dal nido cade dal nido quindi fa un volo perché non aveva ancora imparato a volare era un passerotto piccolo questo cade dal nido e però per alla fortuna di finire nella merda nella merda di vacca e questa merda di vacca diciamo così attutisce il colpo e il passerotto si salva quindi il cadere nel finire nella merda non è sempre una cosa negativa tra l'altro dopo arriva un gatto che vede il passerotto nella merda con la zampetta lo pulisce lo tira fuori dalla merda pulisce un po e poi se lo magna quindi la morale qual è che finire nella merda non è sempre la cosa peggiore e che ti tira fuori dalla merda non è sempre la persona che poi ti aiuta quindi dobbiamo tenere presente anche questo fatto e quindi presente anche questo fatto per cui cosa significa tutto questo significa che si deve creare questa armonia tra sfera logica la sfera emotiva e non avere paura di viversi le emozioni però devono essere delle emozioni che piacciono anche alla parte logica delle emozioni positive cioè voglio dire se devi diverti l'innamoramento e non andare a innamorarti di quello diciamo che è la persona sbagliata che ti farà soffrire cerca di iniziare a capire a livello logico e razionale quale può essere la persona giusta per te e quale può essere la persona sbagliata e avere non andare a innamorarti di nunzio che è uno sfigato di merda diciamo così vatti a innamorare di un altro e non andarti a innamorare di nunzio ecco e cerca di andare a innamorarti di una persona che possa essere la persona giusta per te in modo tale che ti dia emozioni ma che queste emozioni siano anche gradite dalla sfera logico e razionale in modo tale che vuol dire non ci sia più contrasto non ci sia più conflitto la soluzione è nell'armonia interiore che in questa riunione di condominio diciamo che siamo noi l'amministratore che è la nostra coscienza riesca a mettere d'accordo tutti i condomini tutte le istanze tutte le varie personalità che ci sono all'interno e in modo tale che piano piano diciamo così iniziamo un cammino di crescita personale un cammino di crescita personale e andiamo a ridurre il conflitto e per ridurre però questo conflitto le emozioni dobbiamo viverle perché se continuiamo a comprimerle se continuiamo a tenere le compresse non non riusciremo ad ottenere non riusciremo ad ottenere nessun nessun vantaggio non riusciremo a sviluppare nessuna armonia cioè ci deve essere un equilibrio un'armonia un fluire di energia in modo tale che anziché inizia anziché abbeverarci diciamo così dalle pozzanghere di acqua sporca di acqua inquinata iniziamo a bere dalle sorgenti di acqua pulita questo è il percorso di crescita interiore imparare a bere le emozioni dalle sorgenti di acqua pulita non berci delle emozioni inquinate è ovvio che se uno per tanti anni si è bevuto emozioni inquinate avrà messo in atto dei meccanismi difesa questi meccanismi difesa possono essere o meccanismi diciamo di per dire depressivi per cui anestetizzanti o meccanismi somatizzanti delle somatizzazioni di qualunque natura o chi più ne ha più ne mette possono essere infiniti i meccanismi difesa il meccanismo difesa serve a come dire ad allocare delle emozioni compresse che altrimenti non troverebbero allocazione da nessuna parte fondamentalmente no quindi di fatto cerca di difenderci però come dicevo prima poi spesso il meccanismo difesa diventa anche un meccanismo di offesa nel senso che va a oltraggiare anche la nostra parte logico razionale va a oltraggiarla perché la costringe a fare delle cose che non vorrebbe fare e poi la scusa è ad esempio ma io lo amo tu lo ami che vuol dire che tu lo ami se tu sei in una relazione negativa con una persona che vuol dire che lo ami non importa che lo ami cioè devi imparare a pilotare questa energia energia che abbiamo dentro dobbiamo semplicemente imparare a dirottarla a dirottarla vuol dire canalizzarla verso situazioni che sono di crescita interiore di crescita personale andare verso la felicità e oltre il puro benessere questo dobbiamo fare andare verso ed oltre verso la felicità e oltre il puro benessere per non restare in situazioni per non restare in situazioni negative di negatività questo è la cosa è la cosa più importante che dobbiamo imparare e quindi negoziato la la comunicazione diciamo interiore è fondamentale anche come dire allenando comunque la parte emotiva a diversi delle emozioni positive è ovvio che dovrò fare una mediazione cioè se una parte emotiva tossica pensate a un tossico non è che posso fino a ieri questo utilizzava sostanze stupefacenti e da domani gli dico no tu devi bere spremute d'arance dovrò fare tutto un passaggio per portarlo piano piano a bersi la spremuta d'arancia e a trovare gradevole la spremuta d'arancia che l'emozione che diciamo piace anche alla mia alla mia parte emotiva quindi è lo stile di vita che noi dobbiamo fare ma dobbiamo fare delle scelte quindi lo stile di vita deve prevedere delle scelte che probabilmente sono delle sce debbono devono essere delle scelte diverse rispetto a quelle che abbiamo sempre fatto quindi cercare di imparare a gestirci in questa situazione è ovvio che se diamo solo abitudine diamo solo abitudine è ovvio che la parte emotiva non sarà contenta in questi casi adesso non so se c'è ancora la malgasciona se ancora malgascione presente in questi casi ad esempio un abbandono e un ritorno può dare quell'emozione che prima non c'era adesso non so se c'è la malgasciona perché indirettamente non è direttamente detto a lei però eh eccola lì la malgasciona quindi come fai se prima una relazione diciamo era nel piattume diciamo così un un allontanamento e un riavvicinamento un allontanamento e un riavvicinamento ti dà quell'emozione che prima non c'era e quindi prima la relazione è piatta poi la persona ti lascia tu ti dà quel quid emotivo che prima non c'era e quindi esatto tutto torna a gonfio vele però occhio malgasciona questo non per te diciamo però per la persona che sappiamo eh che dopo un po' di tempo se riprende il tran tram prim il tran tram vecchio diciamo così dopo un certo tempo si ritornerà nella situazione eh antecedente e quindi è in questa fase quando tutto sembra andare a gonfio vele che bisogna stabilire nuove regole nuovi comportamenti e nuove situazioni altrimenti si ricasca di nuovo lì quindi questo è importante quindi passa il messaggio a fede passa il messaggio a fede malgasciona mary per sempre posso fare una domanda secondo te uscendo con un iperlogico iperlogico per coinvolgerlo dove sei più trasgressiva questo niente ma è qua dipende e cioè allora con l'iperlogico devi essere trasgressiva ma non eccessivamente se no metti in atto meccanismi di squalifica mary per sempre a 30 50 volte devi essere trasgressiva verso l'iperlogico devi essere trasgressiva ma non eccessivamente se tutti presenti da formato mignotona diciamo così e lui come come dire ti squalificherà non ti vedrà come la donna della sua vita è questo è cioè che adesso perché fa venire nervoso alessio quando mi allontano e poi torno lui me la fa pagare e vabbè ho capito ma è perché non ti allontani nel modo perché torni perché lo sbaglio non è nell'allontanarti nel tornare lo sbaglio è nel tornare deve essere lui che c'è in questo caso non hai capito niente lussi lussi non hai capito una mazza non hai capito assolutamente niente o eccolo lì stefano gatto stefano gatto e poi che abbiamo stefano il malgacione doc la gallina la gallina gallina vecchia fa buon brodo gallina vecchia fa buon brodo abbiamo tornata la gallina brava alessandra casara alessandra casara ma scopi quindi io devo andare via oggi o ritorno e non lo so in che senso devo andare via oggi o ritorno allora qui il discorso che fecevo prima era legato a un caso specifico della malgacciona cioè quando una persona si allontana cioè se è una reazione che va avanti con un tran tran da tanto tempo l'allontanamento diciamo così ti dà l'emozione che rivitalizza e quello era un caso specifico è un caso specifico quello o il gatto c'è sempre stato bravo gatto casara malgacciona la malgacione il malgacione o tra l'altro torino 8 marzo non è più 8 marzo ma qua è diventato 15 marzo vi ricordo gli appuntamenti quindi comunque tornando al discorso precedente bisogna veramente imparare a creare un negoziato positivo con la nostra parte emotiva bisogna veramente imparare a creare un negoziato positivo con la nostra parte emotiva tra la parte emotiva e la parte logica il negoziato deve essere positivo cioè l'arbitro non deve essere cornuto perché gli arbitri cornuti non funzionano bene vi ricordo gli appuntamenti allora che sono un po cambiati perché abbiamo torino venerdì 15 marzo alle ore 21 e sarà come trattare la paura dell'abbandono affettivo Torino 15 marzo si parlerà di paura dell'abbandono affettivo e seduzione paura dell'abbandono affettivo e seduzione mentre Roma resta a breve darò il programma di Roma che sarà il 5 maggio dalle 9.30 alle 19 il riferimento è sempre 3 3 3 15 11 7 0 3 quindi abbiamo Torino 15 marzo alle ore 21 e Roma 5 maggio e il riferimento è sempre 3 3 3 15 11 7 0 3 allora quindi non so se ho risposto a Mary per sempre però all'iperlogica ho bisogno di trasgressione ma non deve essere una trasgressione una trasgressione diciamo eccessiva non so se c'è ancora Mary per sempre perché se ti presenti eccessivamente mignottita subentrano i meccanismi di squalifica meccanismo di squalifica che a un punto di vista logico e razionale non ti prende più come non ti trova più come diciamo non ti trova più come parte non ti vede come una donna giusta per lui insomma quindi occhio bene ok un saluto a tutti ci vediamo nel tardo pomeriggio nel tardo pomeriggio ritornerò sempre su questo canale quindi iscrivetevi a questo canale perché oramai questo canale magari lo lascerò poi magari tornerò a fare anche live sull'alto però questo anche perché mi sembra che la notifica stia arrivando qua quindi ci vediamo più tardi tardo pomeriggio buon pranzo a tutti ciao a tutti a dopo tardo pomeriggio ciao a tutti un buon pranzo a tutti a dopo ciao ciao ciao